Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono X di Subaru Barakakaka e come vi ho detto nello scorso episodio, siamo insieme a X di Capità Legnata di Astro Beam a fare troll face quest, prima l'1, poi il 5, poi il 3, poi il 2, poi il 4 e se facciamo il 6, non lo faremo eeeh, vabbè, allora, andiamo avanti, ci sta questo troll face qua seduto sulla sedia a dondolo, cos'è, dobbiamo... ah, perfetto, caccia il tesoro dobbiamo vendere il tesoro, vai allora, questo qua sta a comprare... che cazzo c'entra caccia il tesoro con gli uccelli, vabbè si lo sa allora, dobbiamo prendere questi... allora, c'è questo cervellone questo qua che ha mangiato hamburger loca, non so poi questo qua è il personaggio di... aspetta, come si chiama? Happy Birds? no, Angry Birds ah, no, Angry Birds Angry Birds poi ci sta questo e questo e quale prende? devo prendere questo? uno qualsiasi no, questo qua ride proprio... forse deve... com'è, triste? non gli piace, vabbè Mimmo! abbiamo preso me allora, questo qua è... lo vuole far passare uh, che bello c'è il cinema di porno bellissimo 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 allora, secondo me questo qua... quanti pensadini erotici faremo? si, si, sicuramente secondo me... io sono sicuro che questo qua è come il personaggio di Strollface Quest 5 che ci dà calci andiamo a vedere? infatti dà calci proprio peggio proprio si allora, ce lo vedi dietro di te? dietro ci sono delle porno star che io vorrei vedere mi fai passare? no, non ti fa neanche passare figlio di tua madre della sorella del cane allora dobbiamo cliccare allora qualcosa che non vediamo allora si fò fottere la pistola così ci pare una pallottola in testa sto cornuto no niente tiene una faccia da patata che... guarda quando è brutto una faccia da patata che può essere benissimo il protagonista del... del film porno allora noi c'è la morte come cazzo dovrei fa... cos'è questo? uh, cliccato una... aspetta forse... questa? questa? si Obama! è diventato Obama! è bellissimo! è la fa affasinare! grandissimo! che bello che bello ma posso licenziarlo perché se no... questo qua si fa la fotografia ma che che è sta roba spiegatelo cioè è mai possibile uno che si deve fare la fotografia sta vicino alla foto una macchina fotografica e tiene gli occhi così aperti non tiene manco le palpebre cioè ah ma che è come si può cioè ma chiudili gli occhi si possono chiudere? no niente non si possono chiudere ma si possono chiudere gli occhi? no ah si possono chiudere? ah ok ah ci voleva essere pure Mimma a fare la foto ah tu la chiamato Mimma si si vabbè fai già la chiamato Uga però poi posso chiamarla pure Mimma cos'è? questo qua sta dormendo con gli occhi aperti cos'è? cioè è indeciso tra dormire se sveglio o dormire vabbè questo qua guarda la luna e ci sta una trolluncola perché? non si sa livello solido porca miseria nei commenti scrivetemi se questo gioco ha senso perché cioè allora cioè non togliete togliete voglio vedere la luna niente 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 aspetta forse devi eh però che c'è la luna si non mi disturbare più oppure ti faccio cadere una stella cadente in testa che bello allora questo qua si deve fare la doccia apro l'acqua troppo fredda si scotta no è fredda troppo fredda apriamo l'altra si scotta troppo calda allora decidili porca miseria se noi togliamo questo triangolo forse ci sta un'altra cosa che esce l'acqua tipida ah no però poi piscio questo no niente mette da fare allora se ce la deve fare Mimmo la doccia no niente crede di si crede no non ci sta niente non ci sta una rotella provo all'accanto accanto dove qua ah dietro la tenda dietro la tenda eh dietro questa tenda qua aspetta una cos'è si alla fine ce la fa Mimmo la doccia perfetto lui invece rimane perfetto allora questo qua oh questo è stupendo bellissimo è stupendo proprio cadere da un tetto è stupendo è stupendo proprio ti fai male ti fai male ti fai male ti fai male cade poi se clicco questo pezzente di merda cade cade che cazzo devo fare allora forse devo oh c'è un triangolino lì vedi vado qua eh sii bravo Mimmo vai perfetto ok io ho svisolto la situazione benissimo proprio allora questo qua cos'è allora questo qui sta tremando perchè sa che se passa là sotto ehm suona e mica se li togli e mica se li togli i vestiti no va avanti come se niente fosse guarda te lo sta dicendo pure Mimmo togiti i vestiti togiti i vestiti niente fa di testa sua niente ecco l'unico sono delle due manovole si è cambiato guarda c'è i sopracciglia che si prevede le corde visto cos'è questo ci sono delle manovole cos'è questo sta lavorando sta lavorando sta lavorando è un genio ma come fa a scrivere se sta guardando come cazzo fa a scrivere si guarda una po' ti dà una cosa qua è un impiegato modello per questo riesce a farlo benissimo aspetta ci sono e le manovole bello adesso aspetta non ho capito che senso ha a meno che aspetta un secondo e poi quello di cifra e due stile che è che è che è è bellissimo bellissimo proprio spettacolare eh si praticamente quando ci fanno la perquisizione all'aeroporto cioè praticamente andiamo noi con tutti vestiti nel che cosa la è certo allora ci sono questi qua che stanno dormendo ah questo qua pescatore spesca di notte ha boccato una squala mi sa eh questo qua sicuramente benissimo ci sta la luna che sta russando ci si vede pure la saliva qua questo è semplice basta che fai urlare mimmo la rana e la luna no la rana no no capito prova tu prova quando cade una cosa dal cielo non è la merda di piccione questa sarebbe la saliva della luna qua cos'è aspetta prova cosa è un martello pneumatico sto cosa anche la luna anche la luna io la provo lì che pesce è questo spiegatemelo ah dovevano fare il tipo io lo sapevo io lo sapevo ti giudo questo qua si deve buttare e infatti è morto è morto allora forse si deve buttare mimmo salvatiti tu ma tu sai volare perché allora forse devo cliccare questo aspetta un attimo forse devo no io lo sapevo io lo sapevo io lo sapevo cioè quando noi dobbiamo centrare un bersaglio dobbiamo avvicinare il bersaglio quando dobbiamo raggiungere il traguardo dobbiamo avvicinare il traguardo e quando dobbiamo scendere dobbiamo allora scoppia la coppia scoppia la coppia allora questo in questo gioco io sono sono veramente una merda perché qua ci possiamo stare tre ore quindi io non me le ricordo quindi ci possiamo stare qui tre ore tre ore tre fottute ore ah ok questo e questo no niente da fare questa e questo no e questo qui con questa con questa questa con questa no aspetta questa con questa ok ok questa questo si questo è stato no questo è stato ma vaffanculo ve l'ho detto sono una media in questo gioco e rimane solo questo cos'è oddio perché c'è una capita abbiamo scompaiono le carte di compagno vabbè non mi vuole da capo non è possibile no ho l'impressione che questa faccia del cazzo di merda c'entri qualcosa con tutto questo allora questa e questa questo no troppo se lasciamo per ultimo questa e questa lasciamo niente niente non mi entra in testa sono veramente una schiaffa io lo sapevo io lo sapevo che c'entra Mimmo ma lo so wow questo è bellissimo bellissimo proprio è stata troppo voglio la caramellina dammi la caramellina stronzo vai Mimmo prendila per me dove cazzo vai sta qua la caramellina deficiente voglio la caramellina po povero Mimmo voglio la mia fortuta caramellina ah grazie bene grazie ti ringrazio eh la ringrazio questo qua sta andando vicino alla montagna niente con l'Ancon trollo Lanik c'è inceppata l'Ancon trollo Lanik bellissimo cioè specie Titanic però soltanto si chiama trollo Lanik invece di stare là fuori come un deficiente perchè non vai a a girare niente niente perchè non provi a premere quel a premere sul tizio che sta proprio qui questo qua fa così paura sta testa di cazzo che fa paura a vulpe fino alla montagna quella è un iceberg però vabbè allora mi sarà sottomosso di merda ok allora c'è questo squalo che mi mangio se tocco questo invece ti mangio lo stesso ti mangio lo stesso ti mangio lo stesso se invece tocco Mimmo niente fa la paperella me lo devo portare sulla nella vasca da bagno la paperella qua cos'è? cos'è? è telecomandato posso adesso posso affanno adesso aspetta allora devo aprire la bocca non riesco ad aprirla apri la bocca ahhh ok adesso fa se cos'è? 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 non ha senso ma cos'è? cos'è? devo impostare l'orario cos'è? ah pure le braccia perfetto aspettate voglio fare una cosa cucù sono le 7.25 ahhh che nottata mamma mia oggi mi sono sognato pep vabbè lasciamo a perdere ehm allora qua dovrei cos'è questo? aspetta una no 7.25 cos'è? che c'entra? che c'entra? infatti non c'entra ancora allora c'è questo martello pneumatico che sente freddo allora entra in casa non entra in casa no perchè la morte è glaciale? se te lo sta dicendo pure Mimmo entra in casa fa freddo fa freddo ma perchè è uscito di casa? poi non niente vabbè lasciamo la temperatura ok adesso puoi entrare oh puoi entrare cos'è? cos'è? sta andando a fuoco perchè sta andando a fuoco? è morto è morto grazie sono un martello pneumatico aspetta forse deve forse ora puoi entrare ecco qua portati la chiave di casa no? mi sa che non l'ha capito no infatti eh si col cazzo eh si ah me lo fa po' no no Mimmo aiutami dove vai? dove cazzo vai? spiegi come fa? scoop allora secondo me io sono sicuro che ce ne sono 2 di pallire in 2 bicchieri e secondo me io sto prendendo sempre giusto il bicchiere dove non c'è la palmina aspetta aspetta che adesso ci provo io allora adesso ti adesso veramente ti ti inziplodita nel naso come ho fatto cosa ho fatto l'ho trovata è mitico non ha senso questo qua che deve fare clicca aspetta mimmo fai perchè fare acrobazzi allora quando ci serve d'aiuto fa sempre il cretino fantastico aspetta prova a girare il coso stacca il tutto stiamo staccando di tutto e continuo no se fai così ci metti un detersivo vedi se te gira ti guarda sta rallentando cos'è perché sta guardando a mimmo non lo ha aiutato perfetto perfetto guarda niente no perchè mimmo porta su ma perchè mimmo porta su ma lo faccio io aspetta automatic automatico automatico forse è meglio faccio faccio vediamo così niente da fare ti resta faccia triste perchè sa di che perde cioè lo sa a prescindere guarda ci guarda ha vinto e perde ma come lo apriamo così aspetta ma forse devi mettere forse lo mette tutti i throw face qui mette i throw face e vince perchè ha oddio no adesso vediamo un poco questi qua si devono ubriacare qua ok ok cos'è perchè mimmo mimmo gli ha fatto male la droga mimmo fa veramente fa malissimo fa malissimo fa malissimo allora cos'è questo questo cavolo che ha perchè esplodiamo perchè eh però continuiamo a esplodere a caso praticamente vediamo se mimmo fa pure niente tutte mimmo oddio ma perchè mimmo che fa vedi che ride mimmo che fa perchè cade e si fa male cade e si fa male ma cos'è adesso che ca sta piangendo perchè l'ha fregato ma che no non ha senso abbiamo la chiave vai oh 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 abbiamo finito il gioco oh denari oro oh 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 che mimmo mimmo no c'è fatemi capire c'era mimmo no fatemi capire c'è in tutti questi livelli era presente mimmo poi è arrivato all'ultimo momento si è intrufolato nella scatola e è cretino proprio ah troffessa e mimmo erano d'accordo per farmi uno scherzo brutti stronzi di merda vabbè ehm abbiamo fatto questo gioco questo altro gioco no sense tra virgolette fra mille virgolette no sense e vabbè e la prossima volta faremo anche trofeis 4 e vabbè ehm finito questo video noi ci vediamo al prossimo video qui da xd subaru barakakaka xd capitale nata xd astrobing ci vediamo alla prossima ciao raga